ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di tessilan condivision quest'oggi vedremo insieme tre progetti come ormai già sapete pubblicati condivisi sulla nostra pagina facebook meglio di maglia in particolare nella settimana dal 12 al 18 ottobre io vi ricordo ovviamente di iscrivervi al nostro canale di attivare quella meravigliosa campanellina in modo tale che non appena uscirà un nuovo video appunto di tessilan condivision oppure tessilan news con rosaria o ancora la rubrica come fare con andrea verrete subito avvisate e quindi potrete conoscere tutti i nostri nuovi prodotti i progetti che analizzeremo e anche come utilizzare dei particolari oggetti che insomma sono sempre complicati da capire effettivamente lo scopo insomma ecco andrea in questo ci dà una grande mano devo dire ok non perdiamoci in chiacchiere iniziamo subito con il primo progetto che è di lo vedete il primo progetto di quest'oggi è di maria rita lorenza fichera che ha realizzato questo progetto prendendo spunto da un tutorial della fata tutto fare vale a dire la nostra amatissima maria grazia dottore con il poncho many ways lei lo ha denominato sinfonia blu perché ovviamente lo ha personalizzato quello della fata è stata una sua fonte di ispirazione ma lei poi ci ha raccontato essere comunque una persona che è molto istintiva e che quindi poi si lascia diciamo trasportare dalla fantasia infatti i progetti proprio come sinfonia blu come ha denominato questo poncho sono tanti tanto da avere addirittura aperto insomma un sito se volete quindi saperne di più contattateci oppure contattatela direttamente sicuramente sarà ben felice di darvi tutte le indicazioni per realizzare questo poncho lei ha utilizzato il chuck 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 nelle varianti del blu in quanto è un colore che lei adora e oltretutto ci ha spiegato essere anche un colore che combatte la depressione quindi sicuramente molto positivo che davvero poi ecco potrebbe in un certo senso ecco allietare le nostre vede quando ci vediamo ecco magari allo specchio e ha utilizzato circa 600 grammi di chuck come vi ho detto lavorato a doppio filo quindi insomma le sono serviti davvero pochissimi gomitoli per una taglia pensate che comunque può variare dalla 44 alla 52 perché comunque un poncho molto largo molto morbido quindi adatto davvero a qualsiasi taglia e che oltretutto si può adattare ovviamente insomma se lo si preferisce più lungo insomma o più largo ci ha detto che ha una grandissima passione per l'uncinetto e che adesso che è un po più libera un po più di tempo libero si sta dedicando anche pensate al telaio al telaietto al cucito al ricamo insomma davvero ne sta insomma ne sta davvero facendo di lavori e insomma ci auguriamo di poterli ammirare sia sul suo sito che insomma sulla nostra pagina facebook meglio di maglia era un po scettica sull'acrilico ci ha confessato ma col chuck e siamo felici di questo si è ricreduta in quanto comunque il chuck è un filato sì in acrilico ma davvero molto morbido sottile al punto giusto che si presta davvero a capi di abbigliamento davvero molto soffici da da indossare noi ovviamente ringraziamo maria rita lorenza fichera e passiamo al secondo progetto di oggi che è di il secondo progetto di quest'oggi è possiamo definire un di una veterana insomma di tessiland vale a dire donatella buranello che pubblica i suoi progetti uno più bello dell'altro e quest'oggi abbiamo deciso di selezionare un progetto che devo dire vi è piaciuto davvero tantissimo quel cappottino dolcissimo da bimbo realizzato con il selin ecco abbiamo chiesto a donatella insomma qualche notizia in più allora lei ci ha detto che ha utilizzato circa 500 grammi di selin lavorati con il cucinetto numero 5 per un bambino dell'età di circa 17 mesi che oltretutto ha anche foderato quindi è possibile insomma ecco indossarlo davvero per tutto l'inverno ci ha detto che le misure sono 35 di larghezza 40 di altezza e invece le maniche circa 25 centimetri che ha preso spunto da una foto che ha realizzato il tutto utilizzando il punto waffle e devo dire che ha utilizzato ha avuto diciamo una maestria unica perché ha avuto la capacità di utilizzare di prendere spunto insomma da più tutorial e metterli tutti insieme infatti hanno detto il punto di base il punto waffle poi per le maniche ha preso spunto dalla maglia waffle appunto della fatatutto fare il carret del cappottino si è ispirata sempre a maria grazia dottore e anche il bordo a coste che si è unito poi a tutto il progetto e il cappuccio ha preso spunto sempre dalla fatatutto fare quindi appunto devo dire che è stata maria grazia dottore in particolare in questo progetto è stata una vera e propria fonte di ispirazione per quanto riguarda gli alamari invece lei diciamo in un certo senso li ha personalizzati che cosa ha fatto ha ritagliato un triangolo di pelle e poi successivamente lo ha cucito ha applicato semplicemente con della colla dei bottoni in legno e insomma ha cucito il tutto ottenendo appunto gli alamari che vedete sul cappottino quindi devo dire è stata davvero molto brava oltretutto ci ha anche inviato un dolcissimo messaggio vocale che vi facciamo insomma ascoltare allora vediamo buongiorno a tutti grazie di essere stata scelta per il mio piccolo progetto del mio nipotino il fatto con il filato celin filato meraviglioso non è la prima volta che lo adopero e morbido al tatto non punge e voi della tessina siete meravigliosi siete stati la prima ditta che io compero online e continuo a farlo perché i vostri filati sono stupendi e molto gentili tutto lo staff gentilissimo ogni volta che chiamo per qualche informazione siete sempre disponibili e niente vi ringrazio e sto cappottino è uscito grazie anche tutti i tutorial della fata che mi è molto di ispirazione anche per altri progetti perché ne ho fatti tantissimi e vi ringrazio vi ringrazio a tutti ancora e buona buona giornata grazie e noi ringraziamo ovviamente donatella perché è stata davvero molto carina e disponibile appena l'abbiamo contattata subito ci ha risposto ci ha dato tutte le informazioni si è mostrato davvero molto disponibile anche con questo saluto tramite appunto messaggio vocale a proposito di celin però non so se avete avuto modo di vedere sul nostro catalogo che c'è una new entry che c'è un tocco di brillantezza in più nel catalogo testiland bensì parliamo quest'oggi di celin lux guardiamolo nel dettaglio e poi magari vi do qualche indicazione in più eccolo il celin lux che si presta davvero a quelle creazioni che richiedono un uncinetto un pochino più grosso questo allora un gomitolo in lana super soft 57 per cento merinos irrestringibile 40 per cento acrilico top quality e 3 per cento ovviamente di fibra metallica il peso è di 100 grammi e la lunghezza invece di 150 metri per il quale consigliamo l'utilizzo dei ferri o il 6 e mezzo 7 e mezzo oppure l'uncinetto 6 quindi insomma ecco appunto grazie proprio a questo uncinetto grande sicuramente anche i vostri lavori saranno molto più rapidi da terminare ecco come vedete quindi c'è questa fibra metallica che percorre tutto il filato grazie ad una torsione che comunque consente una tipologia di lavorazione molto scorrevole e comunque allo stesso tempo rende il vostro capo davvero molto morbido allora vediamo un po' quelli che sono i colori attualmente disponibili sul nostro sito questo ovviamente è il cipria come potete vedere ha una fibra metallica eccola qua cerchiamo di aprirla per farla vedere a meglio di un bel rosa acceso comunque possiamo definire ecco un tono su tono vediamo anche gli altri colori allora questo è il bordeaux invece anche questo la fibra metallica possiamo definirla tono su tono quindi di un bordeaux di un rosso molto acceso che però non vi lascerà andare nel trash o nel kitsch poi c'è quest'altro invece che il blu con una fibra metallica di questo blu intenso davvero molto bello poi proseguiamo con il nero invece quindi per capi magari anche un po più eleganti che però ha all'interno questa fibra metallica nera quindi un tono su tono vedete ci sono questi piccoli luccichi che insomma rendono il capo davvero molto elegante poi proseguiamo invece con un contrasto vale a dire con il sabbia che invece ha il lame rosso quindi insomma ecco da da contrasto per dare insomma un tocco di originalità al vostro capo eccolo qua questo è il sabbia poi proseguiamo con le cru che invece ha la fibra metallica color oro ecco come potete vedere la torsione della lana che avvolge il lame permette davvero di evitarne inoltre tutto anche il contatto diretto con la pelle quindi preservando dal fastidio che magari il lame potrebbe causare sulle pelli un po più delicate eccolo poi proseguiamo invece con il lavanda anche qui proseguiamo con il contrasto infatti vedete il celine lavanda con il lame invece la fibra metallica di un bel verde smeraldo e poi infine concludiamo con un bel grigio che serve sempre soprattutto insomma come colore must di quest'inverno con questa bella fibra metallica color argento in una parola celine davvero molto bello questo celine lux anche perché poi grazie al suo spessore che appunto un po grande vi consente di far sì che possa prestarsi benissimo alla realizzazione di capi definiamoli un po più esterni quali ad esempio maxi pull poncho ben vengono anche degli sciarpponi avvolgenti che con questo effetto vedo non vedo di lurex daranno un tocco appunto di brillantezza a tutti i vostri capi quindi davvero molto bello il celine lux noi ve lo ricordiamo sempre lo ricorderemo all'infinito fa parte di una tipologia di lana che definiamo appunto che fa parte della nostra categoria lana baby che è una lana del tutto naturale quindi oltretutto il celine lux è in esclusiva per tessiland quindi del tutto made in italy che utilizza delle fibre naturali davvero di primissima qualità con questa aggiunta dell'urex lo rendo un prodotto al bacio come si suol dire e oltretutto fa parte come vi dicevo di una tipologia di filati oltre ad essere naturale fattore davvero importantissimo soprattutto se magari destinato anche a pelli un po più delicate ma è anche uno di quei filati che con il lavaggio a questa ormai la sapete nel gergo esplosione di fibre che vi consente di far sì che con i lavaggi il filato possa acquisire ancora più morbidezza lucentezza e voluminosità ovviamente noi consigliamo sempre i primi lavaggi a mano con sapone delicato di non strizzarlo ma tamponarlo con un asciugamano e riporlo in una posizione piana ma vi basterà d'altronde leggere le etichette che apponiamo su ogni singolo filato e poi magari dopo i primi cicli dopo i primi lavaggi a mano potrete anche optare per un ciclo delicato sempre con sapone neutro detto insomma parlato un attimo del selene luxe visti un po tutti i colori nel dettaglio come sapete il secondo progetto è quello che riguarda anche l'assistenza e quindi abbiamo concluso ormai il percorso del come acquistare ma vogliamo parlare di un altro servizio che offre tessiland davvero molto importante che è il reso allora il reso come ricordate magari nelle scorse puntate e dobbiamo sempre fare la distinzione tra chi decide di registrarsi come ospite e chi invece decide di ricreare un account quindi come cliente allora la differenza sostanziale quando parliamo di reso cosa vuol dire che praticamente se magari vi arriva un prodotto avete sbagliato da acquistarlo oppure non è esattamente come ve lo aspettavate se ovviamente non è stato utilizzato non è stato maltrattato c'è l'etichetta potete renderlo per chi si registra come ospite ovviamente non può accedere al suo account e pertanto non può effettuare le richieste di reso ma direttamente dal nostro account ma può farla quindi ci invia magari una mail dicendo appunto la motivazione i dati perché intende rendere questo filato e che appunto intende rendercelo a quel punto ci invia a sue spese il pacchettino con all'interno i prodotti che intende rendere una volta arrivato in azienda all'ufficio di resi e reclami controllerà che tutto sia conforme che non sia appunto come vi dicevo maltrattato che sia comunque provvisto delle etichette che quindi possa essere appunto rielaborato e quindi riutilizzato vi genereremo un buono di pari importo opzione invece diversa per chi si registra per chi crea l'account come cliente per chi lo fa ovviamente può effettuare la richiesta di reso e soprattutto la prima richiesta di reso per chi si registra come cliente ha le spese di spedizione gratuite quindi allora il servizio di reso è sempre gratuito sia per chi si registra come ospite che per chi si registra come cliente ma per chi si registra come cliente il primo reso ha le spese di spedizione gratuite cosa significa che siamo noi una volta vista la richiesta di reso che avrete effettuato ad inviarvi il corriere che quindi verrà a ritirare il pacchettino e una volta tornato in azienda anche qui la procedura è la stessa controllato che tutto sia conforme vi genereremo il buono di pari importo che come sapete il buono ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione successivamente scadrà quindi insomma avete davvero tanto tempo per poterlo utilizzare sul nostro sito vediamo per chi si registra appunto come cliente come effettuare la richiesta di reso effettuare una richiesta di reso è molto semplice dovete andare sul nostro sito quindi www.tessilan.com effettuare l'accesso e quindi cliccare su accedi inserire il vostro indirizzo mail e la vostra password ecco qui e cliccate su accedi a questo punto siete nel vostro account quindi non dovete fare altro che cliccare nello storico e dettagli degli ordini in modo tale da far sì che vi fuoriescano tutti gli ordini che avete effettuato sino ad ora selezionate la voce dettagli dell'ultimo ordine o meglio dell'ordine nel quale c'è il prodotto che intendete rendere a questo punto vi fuoriuscirà appunto così la lista dei prodotti che avete acquistato quindi fleggate il prodotto l'articolo che volete rendere mettiamo ad esempio per ipotesi che io voglia rendere questo che è il ringo le quantità che potete quindi modificare qui quindi se una due tre quattro cinque io mettiamo per ipotesi che ne voglia rendere quattro perché uno l'ho già aperto ed utilizzato una volta quindi fleggato il prodotto che intendete rendere qui inserite una motivazione mettiamo ad esempio non è il filato adatto per il lavoro che intendo realizzare quindi una motivazione ovviamente più che valida e poi cliccate su chiedi un reso a questo punto avrete quindi l'ordine dal quale avrete effettuato la richiesta di reso il numero della vostra restituzione lo stato del pacchetto che è quindi in attesa di conferma e la data di emissione nel momento in cui sarà poi accettato dopo le opportune verifiche il vostro reso qui lo stato passerà da in attesa di conferma a in attesa del pacco e qui vi apparirà la bolla di restituzione che dovrete scaricare stampare e inserire all'interno del pacchettino ecco come avete visto insomma è davvero molto semplice effettuare una richiesta di reso sul nostro sito poi oltretutto con questo servizio primo resto gratuito buono con una validità di 30 giorni insomma voglio dire poi come ben sapete se avete bisogno di qualsiasi informazione se qualcosa magari che avete acquistato non va bene oppure danneggia contattateci sempre al servizio di assistenza e insieme riusciremo insomma a trovare la soluzione a voi più congeniale adesso però passiamo al terzo progetto che è la foto che ha ottenuto più mi piace colei che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana è jasmina ilic che davvero ci ha confessato non si aspettasse di ricevere così tanti like però a volte ecco il progetto più semplice ma realizzato bene viene premiato insomma devo dire che infatti anche questo merita lei ha preso spunto da un tutorial della fatta tutto fare e ha utilizzato questo giacchino con la fettuccia king che come potete vedere va sempre bene è una garanzia questa fettuccia c'è da dire e per realizzare questo questo giacchino che in realtà l'è stato ecco commissionato da una sua amica ha scelto appunto il colore bianco in quanto il colore richiesto e ha utilizzato ed ha utilizzato circa una rocca e mezza di filato king lavorato con uncinetto numero 5 le è piaciuto molto questo filato tanto è vero che l'ha utilizzato anche per realizzare la giacca kimono insomma il 5 spicchi in un'altra variante di colore insomma si è trovata davvero molto bene è molto facile scorrevole ha seguito semplicemente il tutorial della fatta tutto fare quindi insomma non ha trovato grandi difficoltà ed è stata così carina da inviarci anche un messaggio vocale ascoltiamolo ciao a tutti sono veramente onorata di essere stata scelta per il condivision ma anche stupita visto che per tanti like visto che era un progetto fatto dalla nostra carissima fatta e quindi non ho inventato niente ho solo seguito il suo tutorial soltanto ho usato il king che a mio parere adattissimo per fare cardigan giacche insomma per i capi spalla visto che scorrevole il lavoro va veramente veloce per quanto riguarda il king ma anche tutti i prodotti teslan posso dire che sono veramente stupendi per me lavorare al uncinetto ma anche ai feri mi rilassa tantissimo e lo faccio ogni volta quando ho il tempo niente alla fine ringrazio a tessiland e ai tutti voi ciao ciao a tutti carina davvero molto carina jasmina più che meritati questi mi piace le facciamo ancora senz'altro i nostri complimenti e adesso vediamo la novità novità di quest'oggi vi presentiamo un nuovo filato vediamo eccolo qui ve lo facciamo vedere in anteprima il nuovissimo prodotto appena arrivato in casa a tessiland parliamo del ringo un bellissimo gomitolo da 100 grammi per 270 metri da poter lavorare con i ferri 4 5 oppure l'uncinetto 3 e mezzo 4 e mezzo è 50 per cento lana e 50 per cento acrilico con queste meravigliose sfumature degradé a forma di carciofo pensate tessiland è la prima azienda in italia che vi consente di acquistare un prodotto appunto con questa forma particolare che è appunto come abbiamo detto a forma di carciofo la vedete poi insomma in tessiland news avremo modo di vederla nel dettaglio ma meritava sicuramente un primo accenno qui in tessiland condivision a forma di carciofo perché in questo modo avrete la possibilità di vedere tutte le intere sfumature che ogni singolo gomitolo offre fino proprio all'interno quindi al cuore del gomitolo davvero un filato stupendo morbidissimo che voi non avete idea nonostante sia appunto 50 lana e 50 per acrilico ma un acrilico top quality quindi è davvero insomma un filato stupendo non vi voglio svelare di più poi lo analizzeremo con calma in tessiland news ma davvero meritava detto ciò ecco questi meravigliosi carciofi io vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alla prossima puntata vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale youtube come vi ho già detto ma di seguirci anche sugli altri social quindi meglio di maia vale a dire facebook pubblicate i vostri tutorial e chissà che chi ci sarà la prossima puntata di tessiland condivision di seguirci anche su instagram pinterest e tiktok di commentare qui sotto per farci sapere se avete delle richieste magari da farci di cui parlare al prossimo video oppure ecco farci sapere se vi è piaciuto consigli insomma siamo aperti a tutto se avete bisogno di maggiori informazioni ovviamente contattateci al nostro servizio di assistenza sapete telefono chat mail whatsapp ovunque ci siamo e vi ringrazio ancora vi do appuntamento alla prossima puntata di tessiland condivision un bacio da me e carciofi ciao 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 ciao